Nessun morto e 67 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo. Il più giovane i tre contagiati ha sei mesi, il più anziano 95 anni. Di questi 29 sono residenti in provincia di Chieti, 20 in quella dell'Aquila, 11 nel Terramano e 2 nel Pescarese. Tre dei contagiati invece provengono da fuori regione, mentre per uno sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. E' quanto emerso dall'analisi di 3.364 tamponi molecolari per un tasso di positività che sale al 2%. Scende invece il numero delle ospedalizzazioni. 120 pazienti, 7 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. 12, 2 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 5.199 positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Considerando anche gli ultimi 76 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.331 positivi accertati, 9 in meno rispetto a ieri.